ciao a tutti e benvenuti a gioca con me giochi per bambini oggi ho qui dei colori vedete questi neon poster paint ovviamente e colori al neon dedicati alla pittura quindi sulla carta colori al neon cioè colori fosforescenti molto forti se vi ricordate abbiamo fatto già un paio di video su questi colori al neon così luminosi e ora vi faccio vedere anche questi sempre della SES creative made in holland vedete ora li tiriamo fuori per vederli meglio per vedere di cosa si tratta eccoli qui allora sono sei colori vedete nero verde giallo rosa arancione e azzurro prendiamo per esempio l'azzurro che vi faccio vedere come sono sono vedete colori molto normali da pittura non sono da diluire troppo nell'acqua anzi vi consiglio di non farlo perché se li diluite il colore rimane più più acceso insomma lo vedete così com'è mi vedete qui che cerco di non usare ma semplicemente perché mi piace molto non usare la tempera però voi non fatelo perché in realtà non è proprio indicato ma era giusto per vedere se i colori avevano anche un'associazione con il l'odore ma vi garantisco che non ce l'hanno odorano di tempera normalmente vedete i colori sono molto accesi ovviamente colori al neon che si possono vedere quindi anche al buio molto interessante questa collezione perché appunto dipingerete qualcosa che rimarrà visibile anche una volta spenta le luci di casa io spero che il video vi sia piaciuto come sempre vi ricordo che di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati con tutte le nostre super novità e per seguirci sempre mi raccomando lasciateci un like e qualche commento se vi va noi vi leggiamo sempre ci fa sempre molto piacere e quindi ci vediamo alla prossima ciao